Grazie, Presidente. Diciamo subito che con questo provvedimento non viene minimamente corretto il disastro che è stato fatto sulle questioni del lavoro dalla legge Fornero, che oltre che disastrare il sistema di welfare ha creato non pochi problemi nel comparto del lavoro e dell'occupazione. In quest'Aula non c'è, non solo forza politica, ma penso non c'è ormai, a parte forse qualche ultimo giapponese, non c'è parlamentare che non critichi la legge Fornero e che non la definisca eufemisticamente una schifezza. Però nello stesso Parlamento non ci sono azioni concrete per modificare la legge Fornero. Con questo provvedimento non si danno risposte ai disastri causati con questa legge, a cominciare dagli esodati fino ad arrivare, ovviamente, all'aumento degli oneri sul lavoro che aveva portato sempre la legge Fornero e che hanno causato maggiori difficoltà di carattere occupazionale. Questo provvedimento noi crediamo che non porti più occupazione, perché più occupazione si può ottenere nel momento in cui le nostre aziende siano più competitive. E oggi le nostre aziende sono schiacciate da due elementi che sono poco superabili dal nostro sistema Paese. Il primo elemento è, inevitabilmente, la moneta unica. L'euro, che piaccia o no, è una moneta forte. È una moneta fatta per Paesi che vogliono acquistare le materie prime a basso costo. È una moneta che favorisce, per esempio, la Germania, che a differenza nostra ha un sistema di produzione basato sul manifatturiero pesante. Fanno i grandi ingranaggi per le dighe, fanno le rotative, le grandi rotative che arrivano a costare qualche centinaio di milioni di euro. Noi, invece, facciamo un manifatturiero leggero, piaccia o no. Noi facciamo le scarpe, le cravate, le camice, che se hanno una produzione basata su una moneta pesante, sono inevitabilmente poco concorrenziali e mettono in ginocchio le nostre imprese. Prima di entrare nell'euro, il marco tedesco valeva mille lire. Fine delle discussioni. Sono numeri ed è lì da vedere per quale motivo le nostre aziende sono schiacciate da questa moneta unica. La seconda considerazione, il secondo elemento che mette in difficoltà le nostre aziende, è la pressione fiscale, che con questo provvedimento non viene minimamente toccata. E la pressione fiscale sul lavoro, che è quella di cui dovremmo occuparci per dare maggiore occupazione e invertire questo ciclo e questa crisi economica. Da noi la tassazione complessiva sulle imprese è il 68,3%. È un elemento insuperabile in un momento di crisi economica. E le do queste cifre sottolineando che in Slovenia la tassazione sulle imprese è al 34% e in Austria al 50%. E questi non sono paesi del sud-est asiatico, non sono paesi che pagano con quattro fagioli o tre monetine, sono paesi dell'Unione Europea e che sono nel sistema euro, ma che quantomeno hanno una tassazione sulle imprese che è in alcuni casi un terzo di quella delle nostre imprese. E noi ci aspettavamo che in un provvedimento che si prefigge come obiettivo quello di creare occupazione, il primo intervento fosse nella diminuzione degli oneri fiscali e dell'aumento degli stessi che la legge Fornero aveva previsto e che ha messo ulteriormente in difficoltà le nostre aziende. La legge Fornero, come dicevo, ha aumentato il costo del lavoro e gli oneri contributivi. E voi invece di correggere questa legge in fausta cercate di fare un po' il gioco delle tre carte cambiando con un provvedimento alcune regole. Alcune regole che potevano essere condivisibili, che non abbiamo difficoltà a dire che sono anche positive o meglio che erano positive, ma purtroppo per le divisioni all'interno del partito che ha la golden share di questa maggioranza governativa, cioè il Partito Democratico, sono state ampiamente anacquate in Commissione. Tanto è vero che oggi noi ci troviamo a votare con il voto di fiducia per azzerare tutte le proposte emendative che verosimilmente in quest'Aula avrebbero spaccato ulteriormente il Partito Democratico, non riuscendo a portare a casa un consenso e un provvedimento così come il Governo aveva intenzione di fare. Il provvedimento è stato anacquato in Commissione e per evitare le ulteriori spaccature si chiede il voto di fiducia senza le migliorie che l'Aula avrebbe potuto portare. E questo perché inevitabilmente, nonostante si cerchi di emanciparsi, ampie parti del Partito Democratico restano sui temi del lavoro profondamente ideologici. Ancora oggi, lei Ministro lo saprà bene, nella Commissione lavoro quando si cita il giurlavorista Marco Biagi e alcuni del Partito Democratico gli viene la pelle d'oca come fosse chissà chi. Ecco, noi la pensiamo in modo diverso. Noi pensiamo che sulle tematiche del lavoro si debba uscire dagli schemi ideologici e cercare di dare delle risposte concrete. Risposte concrete perché la disoccupazione giovanile è al 42%, quella generale al 13%, ma soprattutto il dato è che noi non abbiamo mai avuto dal 1972 una disoccupazione così elevata che rappresenta in modo ancora più drammatico la crisi economica che stiamo vivendo. Quindi servivano provvedimenti più coraggiosi, più forti per rendere più competitive le nostre aziende. E l'unica soluzione era attraverso l'abbassamento delle tasse e quindi meno oneri contributivi. Cosa che però non si è riusciti a fare. Ci dite mancano le risorse, però le risorse per gli immigrati che arrivano sulle nostre coste si trovano, le risorse per i carcerati che liberate dalle nostre carceri, nonostante siano stati rei, abbiano commesso atti efferati, si trovano. Portate in quest'Aula probabilmente il quinto svuota carceri, cambiano i governi, cambiano i presidenti del Consiglio, ma i provvedimenti restano gli stessi, ancora una volta molto spesso di carattere ideologico. E per queste cose le risorse si trovano, ma per aiutare le aziende le risorse non si trovano. Ma torniamo un attimo sulla sciagurata legge Fornero, che tutti criticano e la dicono essere una schifezza assoluta, però si fa poco. Noi come Lega qualcosa stiamo facendo invece. Siccome in questo Parlamento non ci sono i margini, non c'è la maggioranza, non ci sono i consensi per cancellare la legge Fornero, noi ci siamo messi a raccogliere le firme, perché chiediamo un referendum per abrogare quella legge che ha messo in ginocchio le aziende con l'aumento degli oneri contributivi, ma anche le famiglie, perché ha bloccato l'indicizzazione delle pensioni, perché ha messo in ginocchio tanti cittadini del nostro Paese che oggi fanno veramente fatica a arrivare alla fine del mese, pur avendo pagato fior di contributi, questo voglio sottolinearlo. E quindi dovrebbe essere il loro diritto richiedere la riforma di questa legge. Legge che tutti hanno criticato, ma che in questo Parlamento, lo ricordo, dalla centrodestra fino ad arrivare al PD, l'avete votata, l'avete votata e anche se oggi dite giustamente che è una schifezza, noi vorremmo vedere i fatti, vorremmo quantomeno vedere che a qualche provvedimento di questo tenore, invece di chiedere la fiducia per cancellare gli emendamenti di qualche parlamentare del PD coraggioso, ci sia la possibilità di intervenire e modificare finalmente la legge Fornero, o meglio la schifezza Fornero. E con il provvedimento della legge Fornero avete creato la contrazione dell'offerta lavorativa, perché se un lavoratore deve rimanere lì al suo posto di lavoro otto anni in più e prima di avere il congedo arriva ad avere 68-70 anni, è di tutta evidenza che questo non permette il ricambio generazionale, ma di più, parlando squisitamente di numeri, un lavoratore che è sul posto di lavoro all'età di 68-70 anni costa statisticamente 2,5 volte in più di un nuovo giovane lavoratore. Voi avete spostato i costi del sociale e del welfare dal pubblico che pagava lo Stato, li avete caricati anche in questo caso sulle aziende, perché oggi le aziende, non potendo trovare nuovi occupati, perché con la legge Fornero devono tenersi gli stessi lavoratori fino a 70 anni, pagano il costo del lavoro 2,5 volte in più. Questi sono i risultati dei provvedimenti che sono stati fatti in passato, che voi avete votato e che oggi, per l'ennesima volta, non avete il coraggio di modificare minimamente e che cercate di raccontarci invece che siano provvedimenti rivoluzionari. Tra qualche mese saremo qui a raccontarci che la disoccupazione è ancora ai record storici.